I resti umani messi sotto sequestro dalla polizia non sono altro che comuni prelievi istologici regolarmente conservati sotto formalina e in contenitori armetici. Questo è quanto ha tenuto subito a precisare il direttore generale dell'ASLA Giancarlo Silveri all'indomani della bufera mediatica che ha coinvolto il nostro nosocomio sul presunto caso di resti umani. Silveri, ospite della nostra trasmissione Il Grillo Parlante a cura della dottoressa Simonetta Paolucci, ha voluto fare il punto della situazione evidenziando che l'ospedale si avvale di due ditte specializzate e autorizzate dalla regione Abruzzo e che tutta la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti è stata messa a disposizione degli inquirenti. L'enfasi, l'enfatizzazione di questo fatto, la coincidenza molto strana peraltro, molto singolare che un blitz segreto della polizia sia stato preso in diretta non da un organo di stampa ma da tutti gli organi di stampa e le televisioni locali, compreso il Tg3, che non è che uno ce l'ha dietro la porta, è difficile da comprendere. Io credo che una esaltazione di questo genere avrebbe motivo di essere nel momento in cui si accontezza di tutto, nel momento in cui la magistratura dovesse aver definito di che si tratta e ha aperto le opportune procedure per le quali a quel punto io sarei pronto a costruirmi parte civile. Così, se è una non notizia, io dovrò rivolgermi alle autorità competenti per il danno d'immagine. Si tratta di 92 scatoloni, ha spiegato ancora Silveri, che anche se recano la scritta rifiuti speciali, in realtà sono stati utilizzati per stoccare il materiale in formalina. La direzione sanitaria ha comunque disposto un'indagine interna per fare piena luce sulla vicenda. Ci può essere il fatto che andavano smaltiti un mese prima, due mesi prima, ma insomma tutto questo fatto non c'è. Ricordo che i reparti di anatomia patologica e farmacia erano attigui e saranno ancora attigui, i lavori sono ripresi finalmente per il recupero degli immobili, iniziando dalla parte della farmacia e quindi a breve poi interesseranno anche la parte dell'anatomia patologica. E quindi è anche possibile che ci possa essere stato, nella necessità post terremoto, ammucchiati da una parte, parlo dei farmaci, e lasciati lì. Forse ci vanno i vari malintenzionati che bazzicano per il nostro ospedale con ruberie varie dei quali non si riesce a venire a capo. Abbiamo sporto varie denunze e speriamo che qualcosa si possa vedere.